Nell'ultimo video dove ho parlato di importanti impianti per videoconferenze ho fatto una grossa dimenticanza. Ho infatti accennato a impianti prestigiosi per grandi ditte multinazionali, pubblica amministrazione, che parlano col mondo intero, ma ho dimenticato che ci sono anche aziende più piccole, con meno collaboratori, che vogliono comunicare in videoconferenza col mondo e che non vogliono spendere fortune, ma che vogliono comunque un risultato professionale, dignitoso, pulito e dal semplice utilizzo. Ed ecco allora una velocissima presa di contatto, non una recensione, ma una presentazione di qualche apparecchio in pieno campo professionale, quindi siamo lontani da quei marchi che hanno sempre fatto joystick e tastiere per videogiochi, ma siamo in vero campo professionale con macchine per videoconferenze di alte prestazioni. Ed ecco allora la MagSub UC-S10, sembra una soundbar ma invece è contemporaneamente una videocamera a zoom variabile ed inquadratura automatica che passa da un relatore all'altro a seconda di chi sta parlando. Contiene tra l'altro 6 microfoni in array per captare la voce dei relatori fino ad 8 metri, seguendo la voce di chi sta parlando, togliendo l'eco dei diffusori e i rumori e i riverbi della stanza e mantenendo costante il volume. Inutile dire che è dotata di altoparlanti che diffondono nel meglio la voce di chi sta parlando dall'altra parte del video. Ma la cosa più interessante è che è completamente autosufficiente, non necessita di essere collegata al PC di sala, dotata interamente di Android 8.0 e ovviamente di Wi-Fi. Non ti servirà quindi il computer di sala che puoi comunque utilizzare, ma puoi invece collegarti ad altri 4 computer dei tuoi collaboratori per condividere le schermate sia in sala sia dall'altra parte del mondo, sempre senza fili ovviamente. Questa invece è una videocamera PTZ, PTZ vuol dire pan, zoom e tilt, cioè motorizzata. Oltre ai motori che ne controllano il movimento, è dotata di zoom ottico e digitale e autofocus, è come se ci fosse un camera ramela a bordo. La parte ottica è di alto livello, sia come risoluzione, sia soprattutto come capacità di ripresa in condizioni di luce bassa. Le connessioni sul pannello posteriore permettono di connetterla e di interfacciarla con tutte le altre periferiche, in particolare quelle RS232, che sono magari già in tuo possesso. Oppure di fare un semplice e classico plug and play grazie alla USB sempre sul pannello posteriore. Questo apparecchio solido e suggestivo potrebbe tranquillamente essere tutto il tuo impianto voce e microfono dell'impianto per videoconferenze della tua sala. Basta appoggiarlo in mezzo alla tua scrivania, circondato dai tuoi collaboratori. Si collega infatti in Bluetooth al PC, dove risiede Zoom, Meet, Skype o qualsiasi altro codec. E una volta collegato al PC, non solo puoi sentire la musica di Spotify, tra l'altro si sente molto bene, ma ovviamente potrai ascoltare anche i tuoi interlocutori in videoconferenza, che a loro volta possono ascoltare te e i tuoi collaboratori intorno al microfono, tramite appunto il BM21, che è contemporaneamente microfono e diffusore. Ti ascolteranno nel migliore dei modi grazie alle capsule microfoniche e al software interno che cancella echi, rumori indesiderati e uniforma il volume tra i vari relatori. Hai visto tre delle macchine per videoconferenza che proponiamo e continuamente aggiorniamo sul nostro sito www.ilmicrofono.it A presto!